Noi questa giornata pensavamo di andare a mare, però il tempo non ce lo permette, va troppo freddo. E quindi ci facciamo il giro per Urbino. Ci sono stati anni in cui il 25 aprile è stato festeggiato in spiaggia, magari con il primo bagno dell'anno. Non è stato il caso di quest'anno, visto che il tempo è rimasto incerto per tutta la giornata. Turisti e gente della zona hanno trovato però una valida alternativa, le città d'arte. La più gettonata nelle marche con moltissime presenze è stata Urbino. Tante famiglie, coppie e anche gite organizzate. Purtroppo il tempo è quello che è, però un bel giro ne è uscito oggi. Abbiamo preso un'hotella a Urbania dove passare la notte e abbiamo visto Urbino e non l'abbiamo mai vista. Ci piaceva l'atmosfera rinascimentale e appunto essere avvolti in questa nicchia di storia. Farò 3-4 giorni in Umbria e come prima tappa questa... Niente, bastere una giornata di studio. Alcuni con pranzo al sacco, altri hanno trovato ristoro nei bar e trattorie del centro urbinate affollatissimi. Anche molti marchigiani hanno approfittato per fare una gita fuori porta per lo più in famiglia. Urbino richiama per il suo fascino e per la sua bellezza, sempre visibile anche quando non c'è il sole. C'è un'affluenza di gente che ha preferito venire a fare una visita alla città ducale. Avere un po' di pioggia, un po' di freddo aiuta tanto a portare gente più nell'entroterra. Io sono di Perugia e studio qua e oggi faremo una passeggiata per il centro di Urbino. Urbino è una città piena di cultura, la città rinascimentale è conservata molto bene. Siamo un gruppo di 25 persone e siamo venute a visitare la città di Urbino. Sembra che comincia ad esserci un po' di movimento di turisti, la giornata si è aperta. Urbino è anche medaglia d'argento della Resistenza e in questa giornata ricorda la liberazione con un banchetto in centro per tenere viva la memoria. Abbiamo portato dei libri che ci rispecchiano e la storia anche della Resistenza della provincia di Pesaro Urbino per cui c'è anche una mostra molto bella fatta dai ragazzi della scuola del libro, ragazzi e ragazze, che racconta le varie vicende della Resistenza della provincia di Pesaro Urbino.